Sono un pediatra e sono un analogista. Mi sono avvicinato alle discipline analogiche da circa 20 anni e ho seguito passo passo l'evoluzione di queste discipline dal 2000 ad oggi, sapendo che erano già nate da tempo. Mi sono appassionato e quindi sono diventato prima una studente, poi un analogista e sono diventato anche un docente dell'UPDA. Il mio compito oggi è di parlare di ipnosi. In realtà il titolo sarebbe ipnosi a confronto e cosa cambia nella ipnosi benemigliana. Allora farò una brevissima introduzione e poi parlerò delle tre tipologie di ipnosi, che sono le tipologie di tipo tradizionale, la tipologia ericksoniana e alla fine quella delle discipline analogiche e la ipnosi dinamica di Stefano Benemiglio. Il confronto che farò è per vedere e far sì che le persone possano valutare quanto diversa ma quanto efficace sia l'ipnosi benemigliana. Comincio allora con una breve introduzione. E parto dicendo che l'ipnosi è un evento di per sé affascinante, noto dalla notte dei tempi, cioè praticamente è sempre stata utilizzata, fin dagli uomini primitivi, dalle prime civiltà anche. Ma ancora non è completamente chiarita. Il fenomeno ipnotico non è ancora perfettamente chiarito, la quale circostanza gli lascia una certa aura magica di mistero, che è quanto affascinante ancora. Rappresenta però l'ipnosi un fenomeno spontaneo che occorre in ognuno di noi più volte al giorno. Non dobbiamo definirla e crederla un episodio straordinario. No, è un fenomeno spontaneo che occorre più volte al giorno in ognuno di noi. Ma quando? Durante i cosiddetti sogni ad occhi aperti. Oppure quando compiamo azioni automatiche e il pensiero vaga in direzioni indeterminate, ma non pienamente consapevoli, fa capolino l'inconscio. È una sorta di ipnosi che capita inconsciamente, quotidianamente, penso proprio a ciascuno di noi. L'ipnosi però, oltre a questi momenti di emersione spontanea, può anche essere volontariamente indotta da sé, che allora si parla di autoipnosi, o facilitata da un operatore che pone le condizioni perché l'autoipnosi avvenga. In pratica è sempre autoipnosi. Nonostante questa aura un po' misteriosa che circonda ancora oggi l'ipnosi, tuttavia si possono proporre alcune definizioni di questo fenomeno, che però ne illustrano, ognuna di esse, solo un aspetto particolare. Così possiamo dire che l'ipnosi è la massima concentrazione su una fonte di stimolazione. Cosa vuol dire questo? Vuol dire che non si perde un tipo di cognizione, ma si focalizza l'attenzione e la consapevolezza su una fonte di stimolazione, su un pensiero, su un evento, su una persona. E' una forte concentrazione, una massima concentrazione su una fonte di stimolazione. Un'altra definizione, che mi piace un po' meno, ma che è interessante proporre, dice che l'ipnosi è un modificato stato di coscienza, e qui ci siamo, intermedio fra sonno e veglia. E qui ci siamo poco, perché è una definizione in negativo. È un modificato stato di coscienza, ma non è né sonno né veglia. Un'altra interpretazione, una terza definizione di ipnosi, che è interessante, afferma che l'ipnosi è un varco aperto sull'inconscio. E questa è una definizione che può andare, ovviamente. Cioè, con l'ipnosi si accede all'inconscio. Ma la definizione che mi piace di più, che veramente è anche la definizione più idonea nell'ambito delle discipline analogiche di Stefano Benemeglio, è la seguente. L'ipnosi è comunicazione diretta con l'inconscio. L'ipnosi, ripeto, è una comunicazione diretta con l'inconscio. Fatta questa breve introduzione, passo a raccontare un po' quelli che sono le ipnosi, o che sono state, o che sono tuttora le ipnosi, per arrivare alla fine ad illustrare la magia dell'ipnosi benemegliana. Classicamente si usa distinguere tre tipi di ipnosi, che sono l'ipnosi tradizionale, l'ho detto all'inizio e la ripeto, l'ipnosi ericksoniana, dall'autore che l'ha ideata e che si chiama Milton Erickson, e infine l'ipnosi dinamica, di Stefano Benemeglio, delle discipline analogiche. L'ipnosi tradizionale, quella di più antica data, quella che fino alla fine del 1800, inizi del 1900, era ancora di uso comune presso tutti gli ipnotisti, è detta anche direttiva. perché quanto l'operatore dichiara diventa automaticamente realtà per il soggetto. In altri termini accade questo. A seguito di pochi atti induttivi prodotti dall'operatore, tipo fissare un pendolo che oscilla, oppure una fonte luminosa, oppure anche essere toccato dall'operatore stesso, questi piccoli pochi atti induttivi, semplici, piccoli no, semplici atti induttivi, e accompagnati unitamente a un comando di poche parole, bene, questi due eventi, i pochi atti induttivi e il semplice comando, inoltrato magari con un tono di voce appropriato, che può essere un tono suadente o un tono imperioso, il soggetto va in trance. Pochi atti induttivi e un comando semplice di poche parole può essere sufficiente, è sufficiente nell'ipnosi direttiva, per mandare l'individuo in trance. Ma questo metodo sfrutta il potere induttivo del contesto, dove avviene, dove accade, e utilizza procedure stereotipate, cioè uguali per tutti. Cosa significa? È importante il contesto, l'ambiente dove accade l'evento, e insieme all'ambiente suggestivo e che induce suggestione, già di per sé, e lo vedremo fra un momento come, deve esserci anche un soggetto, un operatore, che ha una autorevolezza precostituita, quello che si intende come potenziale ipnotico, precostituito. E allora, unendo questi due eventi, queste due situazioni, cioè il contesto, il contesto suggestivo e l'autorevolezza precostituita dell'operatore, si ottiene l'evento ipnotico. Se non esistono contemporaneamente questi due fattori, spesso accade che l'evento non sia non sia riproducibile. e poi c'è la questione delle procedure stereotipate, come se tutti fossimo sullo stesso piano, uno schema che va bene per tutti. Ora, questo risulta sicuramente un limite, perché ogni persona è diversa dall'altra e merita un'attenzione è anche un metodo personalizzato, tagliato su misura, come si usa dire. L'esempio classico di una ipnotista tradizionale è rappresentato da Anton Messner che alla fine del 1700 accoglieva a gruppi i suoi pazienti, li poneva in un contesto ambientale poco illuminato con la diffusione di una musica appropriata e lui poi si presentava in atteggiamento ieratico. Il suo fisico poi glielo premetteva, aveva il cosiddetto physique de rôle e con una bacchetta in mano metallica con la quale toccava i suoi pazienti che suggestionate da questa atmosfera un po' cupa ma veramente evocatrice magica cadevano in trance. Ma lui si comportava così con tutti tant'è vero che gli aveva li radunava in gruppi a significare che utilizzava sempre questo stesso metodo direttivo. Cioè lui comandava, gli altri ubbidivano e data la sua autorevolezza e il suo carisma andavano e cadevano in trance. Tutto questo è durato con alcune varianti ovviamente fino ai primi anni del metà diciamo pure del 1900 quando è comparso un personaggio molto particolare che si chiama Milton Erickson un neuropsichiatra americano che cambiò tutte le carte in tavola per così dire e inventò quella che viene chiamata l'ipnosi permissiva a confronto di quella direttiva precedentemente descritta. è chiamata permissiva l'ipnosi di Erickson perché l'operatore che la utilizza si adatta alle esigenze del cliente lasciandogli un ampio margine di azione. Il protagonista quindi dell'evento ipnotico diventa il cliente paziente e non più l'operatore come invece accadeva in precedenza. l'approccio diventa diverso da soggetto a soggetto e la tecnica induttiva non è più stereotipata ma adattata ad ogni singolo individuo. Erickson rifugge da ogni schematismo e ritiene poco utili le indagini diagnostiche strumentali ma il punto più importante è questo contrariamente all'opinione dell'epoca che si rifaceva alle tesi freudiane per Erickson l'inconscio è un amico dal quale attingere risorse preziose e non è più invece un ricettacolo di eventi indicibili come aveva insegnato precedentemente Freud o anche precedentemente più o meno negli anni primi anni del novecento questo conferisce veramente tutto un aspetto diverso al processo ipnotico lui Erickson per indurre e poi accompagnare il suo cliente paziente durante l'evento ipnotico usa sempre storie e metafore da lui inventate e costruite sulle esigenze stesse del paziente cliente è un modo di fare molto particolare che è difficilmente imitabile da un punto di vista proprio della 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 analogia con quello che con quello che Erickson intende fare o fa tant'è vero che il suo metodo viene assolutamente assorbito con opportune modifiche ma ciò che soprattutto viene introiettato dagli ipnotisti successivi è quello di ritenere l'inconscio un amico e questa è sicuramente la nota più importante i principi infatti dell'ipnosi permissiva di Milton Erickson si sono diffusi con alcune varianti e rappresentano oggi un indirizzo teorico pratico molto seguito Milton Erickson è stato un rivoluzionario nell'ambito dell'ipnosi ma un altro rivoluzionario Stefano bene meglio con la sua ipnosi dinamica che si afferma a partire dagli anni 80 in poi e viene registrata nell'ambito delle discipline analogiche che lui ha inventato ebbene lui fa un'altra rivoluzione una rivoluzione molto importante che adesso vado un pochettino ad illustrare lui chiama la sua ipnosi ipnosi dinamica e questo aggettivo ha due significati il primo significato è quello di rifarsi alle concetti della psicologia dinamica che indica il conflitto fra attività psichiche intendenti al soddisfacimento dei desideri e altre forze psichiche opposte che impongono invece dei limiti al soddisfacimento dei desideri stavo dicendo dei genitori anche perché hanno un significato profondo ma non è questo il momento di parlare il secondo motivo del termine dinamica in relazione alle discipline analogiche e all'ipnosi designa invece la condizione mutevole che accade che avviene in ogni evento ipnotico che risulta in continua evoluzione e in alternanza con momenti di lucidità razionale in altri modi in altri termini è dinamica ipnosi benemigliana perché nell'ambito dello stesso evento ipnotico a carico di una persona si hanno delle oscillazioni nelle quali si alternano l'emergere dell'inconscio e talvolta invece l'emergere della ragione della razionalità il metodo è del tutto originale e si distingue da tutti gli altri attualmente in vigore a partire dalla fase induttiva infatti l'ipnosi benemigliana cambia le carte in tavola infatti l'induzione nell'ipnosi dinamica avviene attraverso l'inoltro alla persona di stimoli subliminali di tensioni subliminali subliminali cioè che passano sotto la vigilanza della ragione e ciò in contrasto invece a tutte le altre tecniche che utilizzano il rilassamento per indurre per indurre l'ipnosi la trance cioè mentre Stefano bene meglio evita il rilassamento anzi inoltre microtensioni che passando sotto la vigilanza della ragione arrivano direttamente all'inconscio creando uno stato emotivo tensionale le microtensioni subliminali infatti accedono direttamente all'inconscio e vengono inoltrate attraverso i linguaggi emotivi verbali o non verbali che sono un altro importante campo di studio delle discipline analogiche e che praticamente solo le discipline analogiche utilizzano come inoltro di stimoli microtensionali all'inconscio del cliente in questo modo viene contattato l'inconscio e diventa possibile stabilire con lui un dialogo diretto e instaurare con l'inconscio un vero e proprio negoziato come con un interlocutore con un massimo interlocutore ciò conferma che anche Stefano Benemeglio anche per lui questa istanza della mente l'inconscio rappresenta un serbatoio di energia psichica da utilizzare opportunamente l'inconscio l'inconscio durante l'evento ipnotico viene interrogato mentre avvengono queste oscillazioni tra una trance vigile o profonda e la razionalità che qualche volta fa capolino richiesta fa capolino e l'inconscio risponde e l'inconscio risponde pertanto all'operatore non resta altro che registrare le risposte dell'inconscio esattamente così come avvengono come risponde l'inconscio l'inconscio risponde con oscillazioni in avanti e indietro nel corpo o con i linguaggi non verbali di cui l'operatore analogista deve essere molto bene al corrente ma cosa accade se noi quindi interroghiamo direttamente a noi analogisti interroghiamo direttamente l'inconscio questo ci dà delle risposte sono delle risposte che l'operatore registra analogista registra e valgono per quel che sono senza necessità di letture o interpretazioni personali dell'operatore interpretazioni che come tutti possiamo immaginare possono essere anche devianti e non corrispondere all'esatto sentire e pensare della persona l'incontro poi come si diceva come dicevo precedentemente si dipana alternando momenti di trans momenti di lucidità razionale ma è il fine è quello di trovare gli eventi topici della vita dell'individuo unitamente ai personaggi che ne sono stati responsabili e il tutto è collegato dal filo rosso delle analogie fra emozioni tutto può essere dalla nostra memoria logico-razionale ma tutto rimane invece nella nostra memoria emotiva che a fronte di una emozione provata oggi analoga ad una provata nel passato fa che quella del passato si ripresenti nel presente e nel presente rimanga l'ultima scoperta infine relativa al computo matematico tipico degli eventi ipnotici della ipnosi dinamica evidenzia questo computo matematico in modo preciso e incontestabile il concatenarsi degli eventi emersi interagendo con l'inconscio questo metodo conferisce una solida base scientifica che si riflette positivamente nell'applicazione pratica del metodo perché dico scientifica perché è riproducibile come sono riproducibili i computi matematici ancora una volta anche con Stefano bene meglio e con la sua ipnosi dinamica si evince che l'operatore è semplicemente un affiancatore del cliente paziente che risulta ancora in maniera molto più precisa il vero protagonista dell'evento cosa posso dire in conclusione a questa breve esposizione che meriterebbe veramente come in effetti merita dei corsi appositi che fanno parte di un percorso per acquisire il titolo di analogista cosa posso dire posso dire che la continua evoluzione del metodo ipnotico che Stefano bene meglio conferisce a questa disciplina ha raggiunto in questo momento delle precisioni che consentono di arrivare a un risultato e manifestano un'efficacia e un'efficienza che raramente si incontrano quindi un grazie a Stefano per quanto continua a fare per tutti noi e a noi analogisti o appassionati delle discipline analogiche il compito di apprendere queste metodiche così affascinanti grazie buona giornata a tutti